E' l'Italia delle piccole imprese. Non spegnete questa luce. Un progetto per la valorizzazione del proprio prodotto. E quanto stanno mettendo a punto i panificatori della provincia che su iniziativa di Confartigianato diedero vita e oggi portano avanti l'iniziativa del pane tipico La Vicentina, che in questi anni ha conquistato l'apprezzamento di tantissimi consumatori. Con la collaborazione del Cesar e il Centro di Formazione di Confartigianato Vicenza, i panificatori aderenti lavorano alla definizione di un programma che comprenderà attività formative e di promozione, aventi lo scopo di favorire un ulteriore sviluppo della produzione e che potranno godere di una copertura finanziaria totale da parte del Fondo Sociale Europeo tramite la Regione Veneto. Chi fosse interessato e volesse informazioni può rivolgersi al Cesar.